Eccomi qui tornato al Teatro dei Servi, seconda serata degli assaggi di stagione, categoria fuori classe. Cominciamo con lo spettacolo che andrà in scena dal 16 al 18 dicembre, ma mi esattamente un testo di Dario Postiglioni e di Renato Civello. La regia è sempre di Renato Civello che è lui, è lui, buonasera, e con Marial Baima Riva, Caterina Bonanni che è qui sulla mia sinistra e Renato Civello appunto e Fabrizio Milano. Allora buonasera ragazzi, cominciamo dalle fanciulle? Allora parliamo un po' di questo testo, sarete solo tre giorni qui ai Servi, però un testo mi pare dove c'è molto, diciamo uno spaccato della borghesia? Diciamo che sì, si parte da uno spaccato della borghesia che poi si scoprirà diciamo essere un pretesto per analizzare una condizione umana un pochino più complessa. Questo testo è nato tre anni fa in occasione del Festival Contaminazioni, organizzato dall'Accademia Silvio D'Amico e poi è stato portato avanti al Teatro Agorà e adesso avrà il suo terzo diciamo a Prodo, visto che siamo appunto parliamo di a Prodo, in una nuova forma perché ogni volta ovviamente gli spettacoli evolvono, crescono, c'è stato un upgrade che speriamo stupirà e piacerà a tutti quelli che lo vedranno. Fabrizio allora, qui Renato ti chiedo scusa, Renato allora mi pare che entra in gioco anche il rapporto con i vicini di casa no? Esattamente, allora la storia nasce in un appartamento borghese in cui troviamo questa donna intenta nelle sue abitudini, con la sua monotonia a immaginarsi un mondo per lei ideale, creato appunto dalla borghesia che lei tanto ama e a un certo punto arrivano i vicini di casa a rompere l'equilibrio di questa donna che si ritroverà ad essere in crisi. E questi vicini saranno poi il pretesto di un accadimento ulteriore che avverrà in un secondo momento che nasconde qualcosa di strano e misterioso. Perfetto, allora facciamo un riepilogo, quindi dal 16 al 18 dicembre, Teatro dei Serbi, categoria fuoriclasse, MAMI, un testo di Dario Postiglione e Renato Civello, la regia di Renato Civello con Maria Albai Mariva, Caterina Bonanni, Renato Civello e Fabrizio Milano. Ragazzi in bocca al lupo allora, alle prossime. Grazie.